Tappa abruzzese oggi dell'iniziativa Safety Car, la campagna di assemblee territoriali regionali organizzata dalla FIOM CGL per denunciare le difficoltà del settore dell'automotive, ma anche per raccogliere idee proposte dei lavoratori da portare poi all'attenzione del governo. All'inizio dell'incontro è stato ripercorso l'ultimo difficile periodo del settore automotive con l'analisi dei vari aspetti della crisi e le ragioni che l'hanno prodotta. Siamo fortemente preoccupati dell'investimento che si sta facendo in Polonia, un investimento gemello, che rischia di aprire un problema di competizione tra i territori, dove nel territorio polacco esiste un impianto di ultima generazione e noi abbiamo impianti che sono stati fatti negli anni 2000, quindi c'è una forte preoccupazione. È fondamentale che la regione apra una discussione con il Ministero dello Sviluppo Economico per mettere in piedi un accordo di programma che consente alle imprese, soprattutto alle imprese dell'indotto, di poter modernizzare le proprie strutture. Nel caso Polonia si parla da tempo dell'appetibilità di quei territori, anche sotto il profilo del costo del lavoro, si parla da sempre, tutti lo sanno, ma sono stati presi dei provvedimenti a livello governativo, ministeriale e anche internazionale, poi, dopo tutto, perché diventino appetibili per gli imprenditori anche nei nostri territori? Purtroppo devo dire di no, perché se uno fa un escursus rispetto a quello che sta accadendo sul PNRR ci si rende conto che in territori come la Francia, in territori come la Germania, c'è un investimento importante per quanto riguarda il settore dell'automotive. Se in Italia questa cosa purtroppo non è così evidente, quindi c'è la necessità di recuperare questo terreno perché altrimenti rischiamo di essere messi in difficoltà rispetto alle agevolazioni che sono presenti non solo in Polonia ma in il resto dell'Europa. Che proposte state raccogliendo e quando le porterete? Innanzitutto noi abbiamo bisogno di utilizzare pienamente la capacità produttiva industriale installata nel nostro paese. Noi possiamo produrre in Italia un milione e mezzo di veicoli. L'anno scorso ne abbiamo prodotti meno di 700 mila e raddoppiata invece la cassa integrazione. E quindi noi abbiamo bisogno invece di un piano di investimenti sia pubblico da parte del governo italiano perché altri paesi europei lo hanno già fatto, sia privati da parte di Stellantis e delle aziende della componentistica perché è l'unico modo per rilanciare non soltanto la produzione industriale ecologica, di mobilità ecologica nel nostro paese ma anche di realizzare l'occupazione visto che sullo stabilimento di Sebel in un anno abbiamo perso mille occupati.